Una provincia virtuosa nella raccolta differenziata dei rifiuti, a tal punto da essere la migliore di tutta la Puglia. Un primato, quello della BAT, già celebrato in occasione della cerimonia riservata ai comuni ricicloni a Bari, che però necessitava di un momento proprio anche nella sede della provincia ad Andria, dove sono stati ribaditi i risultati soddisfacenti in materia di raccolta differenziata. Andria, unico capoluogo di provincia, si conferma comune riciclone con il 67,2% di raccolta differenziata e percentuali vicino al 70% tocca Canosa di Puglia. A completare il poker di comuni virtuosi in questo territorio, quelli di Barletta e San Ferdinando di Puglia, dove la differenziata è cominciata nel 2014. Di fatto una start-up che almeno in uno degli ultimi quattro mesi ha fatto registrare percentuali del 74,4% a Barletta e del 66,3% a San Ferdinando di Puglia. Alla soddisfazione dei risultati, evidenziata durante l'incontro ospitato nella sala consigliare, fanno da contraltare le preoccupazioni del presidente di Legambiente Puglia, Tarantini, sui ritardi in tutta la regione per l'eliminazione delle discariche e l'invito del presidente della BAT, Francesco Spina, affinché la regione Puglia non penalizzi troppo i comuni in ritardo, non solo per colpe proprie, nella raccolta differenziata. Il messaggio che noi oggi abbiamo lanciato in questa edizione è stato quello di chiedere la chiusura del ciclo di rifiuti in Puglia. Questo ritardo ormai inaccettabile nella realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti e degli impianti di compostaggio per la raccolta della frazione umida sta mettendo in crisi il ciclo di rifiuti in Puglia. Auspico davvero che la regione Puglia possa approvare, mi risulta in quest'ora anche qualche emendamento proposto dalla Commissione competente, possa approvare una norma che oltre che a premiare e gratificare i comuni più virtuosi, non vada a penalizzare i comuni che si stanno impegnando in modo affannoso che qualche volta non sono riusciti a decollare non per proprie colpe ma forse per colpa anche di carattere strutturale rispetto agli aro che sono costituiti, fatti burocratici che sono indipendenti qualche volta della volontà culturale e politica dei comuni.